E' partita la sesta edizione di D.R. Alfare, vediamo cosa ci offre questo Salone della responsabilità sociale, oltre a questo splendido esemplare di macchina elettrica. Questa che vedete è la parte degli stand delle aziende che si occupano di sostenibilità. Ma al Salone D.R. Alfare c'è anche una libreria. Che cosa si può trovare in questa libreria? Questo è uno spazio che noi chiamiamo l'edicola del Salone, in cui le aziende espongono tutto ciò che è il loro materiale riguardante la responsabilità sociale. Quindi il loro bilancio sociale, i report, brochure, volantini e quant'altro che testimoni la loro attività. E qui come funziona? I libri vanno comprati o è tutto gratis? Questo è il materiale che le aziende mettono a disposizione gratuitamente di tutti i visitatori del Salone. Quindi io posso venire qui e prendere tutto quello che mi interessa? Si può fare in manbassa. E oltre agli stand che avete appena visto c'è anche uno spazio tutto dedicato ai seminari. Al Salone D.R. Alfare si parla anche di Green Life? Green Life perché vogliamo vivere verde. Vivere verde si può fare nelle città se le costruiamo come città sostenibili. La vera e propria trasformazione delle nuove aree urbane della città. In tutto il mondo le aree industriali dismesse si trasformano in eco-quartieri. Non i quartieri per la speculazione come succede purtroppo spesso qui in Italia o soltanto per fare quartiere di russo. Ma case di edilizia residenziale. Pensate per vivere in maniera completamente diversa. Tanti bambini per strada invece di che tanti automobili. Tanto verde, persino pensile sui tetti delle case piuttosto che distese di cemento o di asfalto come da noi. D.R. Alfare ci ha portato qui in Università Bocconi ma in realtà ci porta anche in città. Quest'anno con D.R. Alfare va in città. Il salone si sposta anche in città. In 23 negozi dove si fa sostenibilità e diventa business. Scopritelo e venite a scoprire come si fa arrivare a Stoccolma e a Copenaghen partecipando a Facili Gioco. Eccoci da qualche anticipazione. Che cosa sono questi Facili Giochi? È necessario passare in quattro degli esercenti elencati sul sito www.dralfare.eu Passando ci si fa fare un timbro, si viene in Bocconi, si scrive un pensiero sulla sostenibilità e così si può partecipare, una giuria estrarrà i pensieri più interessanti che verranno premiati. Ecco per ogni informazione, quindi ripetiamo, si va su www.dralfare.eu